salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale io sono dragon rex e siamo qui pronti a continuare la storia di jin e di gosso tushima e siamo a come potete vedere adesso sono tornato praticamente nella città nel villaggio di akashima e andremo a fare subito una nuova missione sono tornato qua a prendere dei doni che cevano quindi adesso andremo in viaggio viaggio rapido verso l'accampamento delle acque scure la missione che andremo a fare oggi sarà riguardante una missione principale ci andremo a fare cioè le mura di yarikawa yuna è convinta di poterci aiutare a reclutare la gente di yarikawa anche se il loro odio per loro di shimura risale a quando lui ne soffocò la ribellione anni fa forse non ho la sua stessa convinzione ma yuma è piena di risorse e si sbaglia di vado spero che il suo piano funzioni quindi andremo appunto a yarikawa e andremo a farci questa missione principale c'è anche un campo profughi un chilometro e quattro molto lontano quindi prima andiamo qui e poi ci avvicineremo verso le mura e vedremo un po questa missione come andrà ricordo che una delle missioni principali chiamiamo il nostro cavalluccio e quindi andremo qui la nostra prossima destinazione andiamo speriamo di che non incontriamo tanti nemici anche se là già c'è qualcuno che volendo potremmo affrontare qua non mi sembra che ci sia niente è già stato tutto distrutto quindi forse abbiamo uno scontro ragazzi facciamo un bel confronto vai uno è fatto fuori e questo invece no me l'ha fatto va bene questi ci hanno vai venite sotto su ok 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 sto bruciando ok abbiamo fatto fuori ci hanno fatto un po male però li abbiamo fatti fuori tutti bomba altro non c'hanno e vabbè chiamiamo kage così continuiamo la nostra strada anche se siamo messi un po male però andiamo attenzione qua c'è qualcosina provvisto ok forza stiamo a Iaikawa eccoci qua ragazzi le rovine della città vecchia incontro a Yuna vicino alla fottezza di Iaikawa ok questa è bene bene qua c'è un po' di gente ecco ecco abbiamo portato tutto qui come avete chiesto abbiamo detto che è opera dello spettro avete fatto la cosa giusta ok abbiamo parlato con lui che avevamo già visto altro non mi sembra che ci sia qua magari c'è qualche provvista infatti qua c'è qualcosa non mi sembra che ci sia nient'altro un po' di vino sicuramente c'è qualcosa qualche volpe nelle vicinanze perché lo sento comunque detto questo andiamo perché ovviamente dobbiamo incontrarci ecco ecco sì un attimo solo signora un attimo che faccio un attimo il controllo della zona lui spala però c'è qualcosa mi scusi raccogliamole queste provviste perché ci servono per rinforzare il tutto qua ci sono dei bracevi c'è gente c'è un sacco di gente salve signora qua c'è un'altra provvista Yuna ci aspetta di là quindi andiamoci a parlare visto che ciao Yuna come va sì sono qua perché questa gente è fuori dalle mura i mongoli hanno circondato Yarikawa è impossibile entrare reclutare i vecchi nemici di lord Shimura era già un'impresa ma adesso ora servono alleati anche a loro pensaci noi li aiutiamo a cacciare i mongoli e loro aiutano noi dovrebbero prima darmi la loro parola e non possiamo entrare in città sì possiamo c'è un'entrata segreta la usavamo da piccoli anche se fossi ancora lì sarebbe irraggiungibile vale la pena tentare conosco un posto da dove potremmo riuscire a superare l'assedio bene c'è anche il fratello di Yuna le mura di Yarikawa ragazzi questa è una missione principale quindi visto che ne abbiamo fatte tante di secondaria è giusto farne qualcuna di principale raggiungi il tuo alleato ok è stato un bello squadrone di nemici vai Yuna vai che ti seguo andiamo andiamo quello è sicuro ok siamo arrivati mi sembra Yarikawa non ha speranze Yuna dov'è l'entrata segreta lo vedi il fiume vicino alle mura guidaci fin lì e poi lascia fare a me non possiamo eludere un esercito anche se trovassimo l'entrata cosa accadrebbe se ci vedessero condanneremmo la città a morte Taka io mi affido alle tue creazioni ora fidati tu di me allora dobbiamo scoprire come raggiungere la fortezza non farsi individuare dai mongoli allora vediamo bene cos'altro ci abbiamo ci abbiamo questo ok quindi cosa andiamo a fare l'entrata segreta era laggiù dietro l'albero bianco sperando che non l'abbiano trovata capiamo come attraversare il campo una volta al fiume dovrebbe essere facile trovare l'entrata senza farci notare questo è il piano intrufolarci nel più grande accampamento nemico mai visto e poi sperare che la nostra entrata segreta sia ancora lì vicino a me Taka certamente andiamo è assurdo rischiare la vita per tornare in questo postaggio allora non fatti non fatti devo guadagnarmi la fiducia di tuo zio per poter lasciare quest'isola Yarikawa mi piaceva eri troppo giovane per capire Yarikawa è un posto orrendo per una povera figlia di nessuno e così andaste via? no è stata colpa mia non è vero allora dobbiamo accompagnare Yuna al fiume non dobbiamo farci individuare dai mongoli solo che qua ci sono tanti mongoli eh non so se sarà fattibile la cosa o perlomeno non so quanto è fattibile ok attenzione perché c'è gente facciamolo passare ok è fermo lì puoi anche spostare ok attenzione attenzione stai tranquillo oddio chi è che mi ha visto qui qua nessuno qualcuno leggermente visto ok ok dai andiamo venivamo qui a catturare le lipellule ricordi e le facevamo lottare facevamo che una fosse un samurai di ricao un samurai shimura che perdeva sempre scelta interessante ok ci sono un po' di cadaveri qua la direzione dovrebbe essere questa eh là ci sono dei nemici però ok stanno andando via e questo è buon per noi ok sotto la scascata ce l'abbiamo quasi fatta e ci infiltriamo bene c'è ancora e lo stanno sfruttando ecco come hanno resistito così a lungo ok noi prendiamo un po' di provvista una volta arrivati fa parlare è la tua città ok chi siete come siete entrati io e mio fratello siamo di qui i mongoli vi hanno visto no vogliamo aiutarvi a porre fine all'assegno dimmi prima chi era il samurai che hai ucciso per avere quell'armatura non è un ladro è lo spettro lo spettro eh si vi porterò da Ujimasa ma attenti siamo tutti quanti armati qui corri a dare la notizia subito Ujimasa ok era il nome del figlio più giovane di lord Yarikawa il loro clan venne sciolto quando mio zio li sconfisse sono ancora a capo della città ufficiosamente tuo zio soffocò una ribellione e diede vita a una generazione ostile al clan Shimura i mongoli sono sul ponte voi tre seguitemi e state vicini che cosa succede disordini alla porta principale prevedo guai è il loro capo attaccheranno vediamo cosa voglio ok vediamo cosa succede ben trovata gente di Yarikawa io sono Temuge capo di questo esercito ho imparato la vostra lingua per offrirvi un futuro aprite le porte prima che nel mio campo si innalzi la bandiera nera e verrete risparmiati rifiutate e verrete colpiti da terribili sciagure scegli il tuo futuro Yarikawa si allontanano andiamo se si arrendono lord Shimura perderà il suo esercito tranquillo sono troppo testanti per arrendersi in tal caso ci sarà un bagno di sangue hanno bisogno di mio zio quanto lui di lui insieme potremo respingere l'invasore questa gente ha brutti ricordi di lord Shimura se vuole sopravvivere Yarikawa deve dimentirsi eh si perchè ovviamente questi screzzi del passato ovviamente non è salve lord Sakai Fujimasa Yarikawa chi avrebbe mai detto che lo spettro fosse il nipote di lord Shimura fate attenzione o potrebbe punirvi proprio come punì la mia famiglia un tempo potente per la ribellione haizzata contro il gito sono passati anni ora abbiamo tutti i problemi più gravi lei chi è? una servitrice? sono nata qui eppure aiuti il clan Shimura? no lotto per lord Sakai per lo spettro possiamo aiutarvi a spezzare la serra in cambio lord Shimura chiede il vostro aiuto i mongoli vogliono conquistare il giappone prima o poi perderanno interesse e Yarikawa sopravvivrà come sempre simpatico il titolo il tipo eh sì ok facciamoci un giro visto che siamo qui ecco ho visto Taka dove è Taka? è andato da quella parte però noi entriamo prima di qua per vedere un po' cosa c'è eh sostanzialmente non c'è nulla vabbò ok dai troviamo Taka cerchiamo di fare non so se riesco a fare tutto in un unico episodio questa missione perché la vedo vedo che essendo una missione principale penso che sia abbastanza lunga lo spadaio lo spadaio si ricordava di te Shinsuke è morto quello era il figlio com'è andata? Ujimasa crede di poter resistere all'assedio lo spadaio dice che i migliori arcieri sono andati ad affrontare i mongoli contro il volere di Ujimasa sono spariti da giorni se li trovassimo potrebbero aiutarci con l'assedio e così otterremo il supporto della città raggiungimi nella città vecchia appena puoi li cercheremo lì mostreremo a Yarikawa come resistere ok quindi dobbiamo trovare gli arcieri mi sa che le mura di Yarikawa le abbiamo l'abbiamo completato come missione punto tecnico ottenuto ok ne abbiamo due buono a sapersi quella che usavi per martellare le spade la ricordavo enorme ma è minuscola stavi sempre lì e mi toccava portarti via di peso ok loro si sono va bene ci vediamo eventualmente nella città vecchia allora vediamo un po' com'è la situazione quindi abbiamo fatto questa missione principale siamo finiti a Yarikawa ovviamente abbiamo qua un luogo non scoperto lo spettro è il sensei allora sostanzialmente non abbiamo fatto nulla di combattimenti quindi io quasi quasi andrei a vedere innanzitutto questo luogo non scoperto per vedere un po' di di vedere che tipo di zona è quindi andiamo da questa parte mi sa è da qua ok vediamo se riusciamo se riusciamo a saltare il cantastoria delle leggende possiamo uscire di qua perché è là fuori ok se mi fate salire da qualche parte così almeno si può salire di qua qua ci sono delle provviste allora penso che si possa andare di qua ok andiamo di qua andiamo a scoprire questo posto da qua mi sa che si scende allora vediamo un po' dove possiamo scendere perché qua mi sa che stai scendo ma ammazzo però di salire di là non ce la facciamo qua c'è il cantastorie però non ci interessa il cantastorie il luogo è da quella parte vediamo qua ci sono delle provviste che cerchiamo di recuperare che non si sa mai allora suppongo che se di qua non si possa scendere perché non ci sono manco appigli per poter scendere quindi quel luogo al momento non possiamo scoprirlo a meno che non andiamo da un'altra parte vediamo qua intanto ci sono altre risorse il cuoio allora di regola è da questa parte però il problema è poi facciamo ad uscire da qua forse di là forse ci siamo no siamo sempre dentro al da loro abbiamo altre provviste vabbè ragazzi non c'è molto vediamo un po' se riusciamo ad uscire da qua magari forse da qua ce la facciamo il problema è scendere vediamo sono fatto un po' male però sono rientrato allora andiamo a vedere il luogo alla fine mi sono fatto il nostro gin si è fatto malissimo però ci sta a meno scopriamo il luogo santuario del picco roccioso ok qua c'è quindi un santuario un santuario che immagino sia letteralmente da da superare se un altro santuario importante allora ragazzi io direi che per adesso noi ci possiamo anche fermare perché in realtà dobbiamo andare da da questa parte da yuna però lo proseguiremo poi un altro momento abbiamo fatto una missione principale non abbiamo fatto molto nel prossimo episodio andremo a fare il sesto racconto del di shikawa con lo spettro il sensei infernale quindi cerchiamo di avanzare con quello e poi magari di fare anche quello che riguarda il quarto racconto di di norio poi andremo a completare un po' di missioni però siccome non vi voglio lasciare senza combattimenti io direi che potremo andare ovviamente qui per adesso nella città di comoda e ci andiamo a fare questa zona dove c'è il villaggio di furuta magari ci andiamo a fare questa di missione si andiamo qui così magari completiamo la zona di là magari ci saranno dei nemici da eliminare o qualcosa del genere così a meno visto che non c'è stato fatto giusto qualcosina ci andiamo a fare a meno questa chiamiamo il nostro cavalluccio quindi ci dirigiamo verso quella direzione ok la strada ci dice da quella parte andiamo andiamo scusi signora ok vediamo un po' di andare velocemente nel villaggio di furuta così cerchiamo subito sperando che ci sia da fare qualcosa perché ok andiamo di qua siamo a 50 metri eccolo qua villaggio di furuta ok eccoci qua territorio mongolo cosa dovremmo fare qua di regola sconfiggi i mongoli uccidi un nemico con una parata perfetta ok ragazzi visto che ci troviamo i mongoli li possiamo anche sconfiggere 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 ok 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 e tutti a suonare state scusi eh ok morto anche lui pro c'è c'è l'altra gente che ha suonato ok che loro motti ragazzi qua ce ne sono tanti di nemici ok ok là ci sono un bel po' di nemici il luogo ne ha davvero tanti di nemici devo dire l'abbiamo già uccisi un bel po' là c'è il capo ok qua ci sono altri nemici ok ok eh caro generale questa è la mossa potente potente ok ok almeno questo bonus l'abbiamo preso allora non so quanti nemici ci siano ancora immagino che ce ne siano ancora tanti ecco là ce n'è uno però vorrei recuperare qualche freccia non so se col kunai lo riusciamo a colpire cosa mi ha cosa mi ha allora bene vieni 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 anche tu vieni ok ok anche questa è un'altra mossa un po' particolare però ok ci sono ancora dei nemici ancora non li abbiamo finiti tutti bisogna trovarli un po' là ce ne sono altri nemici intanto dove eravamo stati già qua eccolo qua vieni vieni ok anche tu sei morto vediamo un po' sfida i nemici rimasti si si sfidiamo i sfidiamo i nemici rimasti che è rimasto su ok ok completato ragazzi abbiamo completato tutti abbiamo ucciso praticamente tutti una lotta per l'isola e anche il trofeo che abbiamo guadagnato c'è qualcuno che è ancora vivo ma rimarrà ancora per poco mi scusi eh colpo di grazia anche per te ok ragazzi io direi che visto la situazione siamo riusciti a uccidere tutti i nemici di quest'area l'abbiamo uccisi tutti la missione è quindi riuscita io diri che a questo punto ci possiamo anche fermare qui molti punti interrogativi sono usciti intanto completando quella di missione eh sì luogo ancora non scoperto sono un bel po' di luoghi non scoperti che andremo a vedere e abbiamo anche la pace di una madre un racconto di Lady Masako anche questa la dovremmo andare a fare prima o poi allora ragazzi ho voluto aggiungere alla missione principale questa qui per liberare questa zona anche perché abbiamo combattuto poco quindi era giusto farla detto questo io lascio ragazzi noi ci fermiamo qui con questo episodio di Ghost of Tsushima vi ricordo che se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale mi raccomando seguitemi anche sulla pagina Instagram sul canale Twitch e sulla pagina di Facebook troverete il link in descrizione e noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio di Ghost of Tsushima dove proseguiremo a fare altre missioni e a esplorare ancora quindi ragazzi per questo episodio è tutto e ci vediamo al prossimo ciao a tutti